Ancora un grande successo qui a Bagnara. Un successo grazie anche al gruppo Marvel che sono bravi, che hanno accettato questo progetto. L'hanno accettato veramente con tanta armonia e quindi le cose stanno andando bene. Sono contentissimo anche perché era un sogno che io da piccolo portavo di cantare le canzoni di Eroso sul palco. È una cosa riuscita e sono veramente contento. Le prossime tappe quali saranno? La prossima tappe il 15 di agosto saremo in provincia di Crotone, poi il 22 saremo in Sicilia e poi altre tappe che arriveranno. Quest'anno poche tappe perché c'è stata un'incognita perché fino a marzo non si trovava un chitarrista perché come tanti sanno avevamo perso il chitarrista Peppe Sarageno e quindi non c'era voglia di continuare proprio per lui. E quindi poi grazie a qualche consiglio abbiamo continuato proprio per lui. Tutto calabrese? Eh? Il gruppo è calabrese, i Marvel sono di Reggio Calabria, è un gruppo molto affermato. Come ho detto sul palco, meriterebbero un palco cenico più grande di quello di fare la cover di Eroso e Ramazzotti. Grazie. Grazie.